i gioielli tratto da alberto moravia racconti romani quando in una compagnia di amici entra una donna allora potete dire senz'altro che la compagnia sta per sciogliersi e ognuno sta per andarsene per conto suo eravamo quell'anno una compagnia di giovanotti affiatati come pochi sempre uniti sempre d'accordo sempre insieme guadagnavamo tutti molto bene tore con il garage i due fratelli modesti con la sensaleria di carne da macello pippo morganti con la pizzicheria rinaldo con il bar e io con le cose più diverse in quel trattavo in resina e prodotti affini sebbene fossimo tutti sotto i 30 anni nessuno di noi pesava meno di 80 90 chili tutti buone forchette come si dice di giorno lavoravamo ma a partire dalle sette stavamo sempre insieme prima al bar di rinaldo in corso vittorio e poi in una trattoria con giardino dalle parti della chiesa nuova le domeniche le passavamo insieme naturalmente ora allo stadio per la partita ora in gita i castelli ora alla stagione calda a ostia o alla dispoli eravamo sei ma si può dire che fossimo uno solo e così quando a uno di noi mettiamo veniva un capriccio e poi veniva anche agli altri cinque per i gioielli cominciò attore una sera si presentò in trattoria portando al polso un cronometro d'oro massiccio con il cinturino d'oro anch'esso a maglia largo tre dita gli domandammo chi gliel'avesse regalato e lui il direttore della banca d'italia intendendo che se l'era comprato con i soldi suoi e poi se lo sfilò e ce lo mostrò era un orologio di marca con due casse segnava i secondi e pesava con quella maglia così erta non si sa quanto fece impressione qualcuno disse un investimento matore rispose ma che investimento mi fa piacere di portarlo al polso ecco tutto il giorno dopo alla solita trattoria gian morganti aveva il suo orologio anche lui con il cinturino d'oro ma non così pesante e poi fu la volta dei fratelli modesti che se ne comprarono uno ciascuno più grande di quell'auditore ma con la maglia più rada e più larga quanto a rinaldo e a me siccome ci piaceva quell'auditore gli domandammo dove l'avesse preso e andammo insieme a comprarcelo in un buon negozio del corso era maggio e spesso la sera andavamo a montemario all'osteria a bere vino e mangiare la fava fresca e il pecorino una di quelle sere tore allunga una mano per prendere una fava e tutti noi li vediamo al dito un anello massiccio con un brillante non tanto grande ma bello caspita esclamamo e lui disse brutalmente ora però non mi imitate scimmie che siete questo me lo sono comprato per distinguermi tuttavia se lo sfilò e noi ce lo passammo era proprio un bellissimo brillante limpido perfetto ma tore è uno maccione un po molle con una faccia piatta e tremolante due occhietti piccoli di porco un naso come di burro e una bocca che sembra una borsa sgangherata con quell'anello al dito grasso e piccolo e quell'orologio al polso tozzo sembrava quasi una donna l'anello con il brillante come voleva lui non fu imitato però ci compriamo tutti il nostro bravo anello i modesti si fecero fare due anelli uguali d'oro rosso ma con due pietre dure diverse una verde una turchina rinaldo si comperò un anello un po all'antica traforato e cesellato con un cammeo marrone in cui si vedeva una figurina bianca di donna nuda morganti sempre sbruffone acquisto un anello addirittura di platino con una pietra nera io più regolare mi contentai di un anello a castone quadrato con una pietra gialla piatta in cui feci incidere le mie iniziali così da servirmene per sigillare le ceralacche dei pacchi dopo gli anelli fu la volta dei porta sigarette e cominciò al solito tore facendoci scattare sotto il naso un astuccio lungo e piatto d'oro naturalmente a rigatura incrociata e poi tutti lo imitarono chi in un modo e chi in un altro dopo il porta sigarette ci sbizzarimmo e chi si comperò un braccialetto con il ciondolo da portare all'altro polso chi la penna stilografica aerodinamica chi la catenella con la crocetta e la medaglia della madonna da appendere al collo chi l'accendino tore più vano di tutti si fece altri tre anelli e adesso più che mai pareva una donna specie quando si toglieva la giacca e restava in camiciola con le mezze maniche mostrando quelle sue braccioni molli che finivano nelle mani piene di anelli eravamo carichi di gioie e non so perché fu proprio allora che le cose cominciarono a guastarsi roba di poco però qualche canzonatura qualche frase un po pungente qualche risposta secca finché una di quelle sere rinaldo il proprietario del bar si presentò con una ragazza la nuova cassiera alla solita trattoria si chiamava lucrezia forse non aveva ancora vent'anni ma era già formata come una donna di trenta aveva le carni bianche come il latte gli occhi neri grandi fermi e senza espressione la bocca rossa i capelli neri pareva proprio una statua anche perché stava sempre composta immobile senza quasi parlare rinaldo ci confidò che l'aveva trovata con un annuncio economico e disse che non sapeva niente di lei neppure se avesse famiglia e con chi vivesse era proprio quello che ci voleva soggiunse per la sua cassa una ragazza così faceva fluire i clienti con la sua bellezza e poi con la sua serietà li teneva a distanza una brutta non attira e una bella ma facile non lavora e provoca disordine quella sera la presenza di lucrezia ci mise in soggezione stemmo tutto il tempo impettiti con le giacche addosso parlando con ritegno senza scherzi né parolacce mangiando ma con educazione e perfino tore si provò a tagliare la frutta con il coltello e la forchetta senza molto successo però il giorno dopo ci precipitamo tutti al bar per vederla nelle sue funzioni stava seduta su uno sgabbello minuscolo dal quale traboccavano i fianchi che erano già troppo larghi per la sua età con il petto prepotente quasi premeva i tasti della macchina contabile restammo tutti a bocca aperta vedendola così calma precisa senza fretta distribuire i foglietti col prezzo premendo via via i tasti della macchina senza neppure guardarli fissando gli occhi davanti a sé verso il banco del bar e ogni volta con una voce tranquilla e impersonale avvertiva il barista due espressi un bitter un'aranciata una birra non sorrideva mai non guardava mai il cliente essi che ce n'erano di quelli che le venivano fin sotto il naso per essere guardati era vestito con proprietà ma da quella ragazza povera che era un vestito bianco sbracciato semplice ma pulito fresco stirato non aveva gioielli lei neppure gli orecchini sebbene ci avesse i buchi ai lobby degli orecchi e noi si capisce vedendola così bella cominciamo a scherzare incoraggiati da rinaldo che ne era fiero ma lei dopo i primi scherzi disse ci vediamo stasera in trattoria no intanto lasciatemi perdere quando lavoro non mi piace di essere disturbata tore a cui erano rivolte queste parole perché era il più sguaiato ed entrante disse con finta meraviglia o scusate sapete siamo povera gente non sappiamo di avere a che fare con una principessa scusate non volevamo offendere e lei secca non sono una principessa ma una povera ragazza che lavora per campare e non mi avete offesa un caffè e un bitter insomma ce ne andammo via quasi mortificati la sera ci incontrammo al solito in trattoria rinaldo arrivò con lucrezia per ultimo e noi si ordinò subito da mangiare per un poco mentre aspettavamo i piatti ricominciò la soggezione poi l'oste portò un gran vassoio con il pollo alla romana spezzato col sugo di pomodoro i peperoni allora ci guardammo in faccia e tore interpretando il sentimento comune esclamò sapete che vi dico a tavola mi piace stare in libertà fate come me e vi troverete bene così dicendo afferrò una coscia e con le due mani piene di anelli se la portò alla bocca e prese a divorarla fu il segnale dopo un momento di esitazione tutti mangiavamo con le mani tutti salvo rinaldo e naturalmente lucrezia che spelluzzicò appena un pezzetto di petto dopo quel primo momento rinfrancati tornammo in tutto e per tutto alla cagnara antica mangiavamo parlando e parlavamo mangiando buttavamo giù sul boccone bicchieri rasi di vino ci sdraiavamo sulla seggiola raccontavamo le solite storie ardite e anzi forse per sfida ci comportavamo peggio del solito e non ricordo di aver mai mangiato tanto e così di gusto come quella sera finito il pranzo tore allentò la fibbia alla cinghia dei pantaloni e fece un brutto profondo da far tremare il soffitto se non fossimo stati invece all'aperto sotto un pergolato mi sento meglio dichiarò prese uno stecchino e come sempre faceva cominciò a sforacchiarsi tutti i denti uno per uno e poi da capo e finalmente lo stecchino rosso all'angolo della bocca ci raccontò non so che storia proprio scollacciata lucrezia allora si alzò e disse rinaldo mi sento stanca se non ti dispiace accompagnami a casa tutti ci lanciammo un'occhiata significativa era cassiera da due giorni appena e già gli dava del tu e lo chiamava per nome altro che annunzio economico del giornale se ne andarono e appena partiti tore fece un altro rutto e disse era tempo non ne potevo più avete visto che superbia è lui che le andava dietro buono buono un agnello però è l'annunzio economico diciamo piuttosto che era un annunzio matrimoniale per due o tre giorni si ripeterono le stesse scene lucrezia che mangiava composta e silenziosa noi altri che facevamo finta che non ci fosse e rinaldo che tra lucrezia e noi non sapeva come regolarsi ma qualche cosa si preparava e tutti lo sentivamo la ragazza acqua cheta non lo mostrava ma voleva tutto il tempo che rinaldo scegliesse tra lei e noi finalmente una sera senza alcuna ragione precisa forse perché faceva caldo e si sa il caldo dai nervi rinaldo a metà pranzo ci aggredì in questo modo è l'ultima volta che vengo a mangiare con voi restammo tutti stupefatti tu re domandò oh e ma davvero e si può sapere il perché beh perché perché non mi piacete oh non ti piacciamo ci dispiace tanto proprio tanto siete una banda di maiali ecco quello che siete ma guarda come parli ma che sei pazzo sì siete una banda di maiali lo dico e lo ripeto a mangiare con voi mi viene mi viene da vomitare tutti adesso eravamo rossi in faccia dall'ira e alcuni si erano alzati in piedi intanto di settore il primo maiale sei tu e chi ti dà il diritto di giudicarci ma non stavamo sempre insieme non facevamo sempre le stesse cose stai zitto tu gli disse rinaldo che con tutti quei gioielli addosso sembri proprio una di quelle non ti manca che il profumo e di non c'hai mai pensato a profumarti il colpo era diretto a tutti noi comprendendo donde veniva guardammo lucrezia ma lei falsa badava a tirare rinaldo per la manica raccomandandosi che smettesse e venisse via e gli disse allora anche tu ci hai gioielli e anche tu hai l'orologio l'anello il braccialetto tu come gli altri il rinaldo fuori di sé ma io sapete che faccio me li tolgo e li do a lei prendi lucrezia te li regalo e così dicendo si sfilò anello braccialetto e orologio si tolse di tasca il porta sigarette e gettò ogni cosa in grembo alla ragazza voi altri disse insultando questo non lo fareste non potreste farlo ma va all'inferno disse tore però si capiva adesso che si vergognava di avere tutti quegli anelli alle dita rinaldo riprenditi la tua roba e andiamo disse lucrezia calma prese in mucchio tutti gli ori che rinaldo le aveva dato e glieli mise in tasca rinaldo però per non so quale rancore che ci aveva contro di noi continuò a inveire pur lasciandosi trascinare via da lucrezia siete una banda di maiali questo ve lo dico io imparate a mangiare imparate a vivere maiali cretino gli urlò tore inferocito ignorante ti sei fatto imbeccare da quell'altra cretina che c'hai a fianco ma avete visto rinaldo salta attraverso il tavolo afferratore per i risvolti della camicia e insomma dovemmo dividerli quella sera dopo che se ne furono andati non fiatammo e partimmo noi stessi dopo qualche minuto la sera dopo ci ritrovammo ma ormai l'antica allegria era finita notammo intanto che molti degli anelli erano spariti e anche qualche orologio dopo due sere eravamo tutti senza gioielli ma più mosci che mai passò una settimana e poi chi con una scusa e chi con un'altra cessammo affatto di incontrarci era finita e si sa quando le cose sono finite non ricominciano a nessuno piacciono le minestre riscaldate in questi giorni poi ho saputo che rinaldo ha sposato lucrezia mi hanno detto che in chiesa lei era coperta di gioielli meglio di una statua della madonna e tore tore l'ho visto tempo fa nel suo garage aveva un anello al dito ma non d'oro e senza brillante uno di quegli anelli d'argento che portano i meccanici